giro numero 3 lo leggiamo da questa parte quindi partiamo con una catenella ancora quindi una catenella giriamo il lavoro e poi adesso facciamo direttamente le tre maglie alte cioè questa che qui abbiamo fatto qua la facciamo in questo spazio tra i due gruppetti di maglie alte di prima quindi due volte il gettato poi ora siamo sul dietro si vede meno al limite girate lavoro sul davanti se non lo trovate vedete qui è dove si uniscano vedete le due parti che sul rovescio è qui alla fine di questa di queste cinque catenelle che abbiamo fatto alla fine del giro vedete qui siamo al centro entriamo qua e facciamo qua le tre maglie alte doppie separate dalle tre catenelle quindi una entrando sempre qui in questo spazio queste le lavoriamo tutte non sono chiuse insieme ma quelle queste sotto nei giri dispari sono sempre normali maglie alte doppie non sono chiuse insieme due e tre vedete tre normali maglie alte doppie una due tre catenelle e ancora sempre qua 3 maglie alte doppie 1 2 3 e sempre nello stesso spazio ora proprio lo faccio vedere per bene ancora 3 la terza ecco qua vedete tre più tre in questo spazio qua tutte chiuse qua finiamo sempre con una catenella e ci riattacchiamo qua sopra la maglia vedete qui dove ci abbiamo già fatto la maglia qui vedete catenella e maglia bassa sempre qui sopra la maglia bassa che abbiamo fatto nel giro precedente quindi entriamo dentro la maglia bassa e ci attacchiamo qua poi ancora una catenella e ripetiamo quindi tre maglie alte doppie tre catenelle tre maglie altre doppie in ognuno di questi spazi quindi ancora qui ecco qua fatte anche qui vedete sempre tre tre catenelle e tre qua nello stesso spazio e questo lo ripetiamo ovviamente per tutta la lunghezza del nostro lavoro dopo ogni ognuno di questi gruppetti sempre una maglia bassa e sempre vi andate a riattaccare sopra la maglia bassa vedete qua in mezzo l'ultimo invece ci attaccheremo sopra la prima di queste cinque catenelle che aveva dove abbiamo avviato il giro precedente quindi questa è la sono le catenelle quindi noi ci andiamo ad attaccare sopra la prima con una maglia bassa ecco qua finito quindi anche il giro numero 3 questo vedete è il rovescio del lavoro che tra l'altro è molto particolare anche sul rovescio quindi se anche lo fate per una copertina rimarrà veramente carina anche sul rovescio non avrà un rovescio brutto quindi questo è il giro numero 3 adesso vi faccio vedere il giro numero 4 ok quindi giro numero 4 nuovamente lo leggiamo da questa parte partiamo sempre con quattro maglie alte quindi una due tre ma quattro catenelle scusate con quattro catenelle quindi quattro catenelle giriamo il lavoro e qui adesso faremo perché quello che cambia in realtà in questo schema è solo come salire su dal giro che è quello che dovrete un po imparare per non sbagliare altrimenti vi verrà un bordo tutto che tira tutto storto quindi fate attenzione a come inizia il giro perché poi il resto sono sempre gli stessi punti quindi quattro catenelle per salire poi vedete siccome adesso siamo sul giro dove il primo petalo diciamo è verso il bordo mentre questo era verso il centro quindi erano già le due punte questo è sfalzato quindi ce n'è solo mezzo quindi il primo vedete andiamo a ricercarci questi tre entriamo dietro e ne faremo solo uno quindi verso il bordo questo non sarà sempre chiuse insieme le tre maglie ma non saranno due gruppi ma soltanto un gruppetto perché questo è solo un petalo diciamo di questo fiore quindi tre volte come vi ho fatto vedere prima lavorate due volte le tre maglie insieme e le chiudiamo tutte insieme ecco qua vedete questo è il lato qua del fiore quindi soltanto uno che è questo quindi poi faremo le cinque catenelle solite stringendo bene la prima una due tre quattro e cinque e ci andiamo ad attaccare qua ci andiamo ad attaccare con una maglia bassa qui sempre su questo archetto di tre catenelle che abbiamo fatto prima ecco e adesso continuiamo quindi allo stesso modo da qui in poi è uguale a tutti gli altri quindi sempre uno due tre quattro e cinque e adesso sempre andremo a chiudere insieme queste tre maglie e queste tre maglie sempre con i nostri due petali quindi gettato doppio entriamo dietro prendiamole da dietro una due e ne lasciamo sopra ricarichiamo e continuiamo quindi così come vi ho fatto vedere prima quindi anche qui facciamo sempre vedete 1 2 e 2 in modo da avere le tre maglie tutte insieme e le chiudiamo tutte insieme così ecco vedete questo è il primo diciamo fiore completo che abbiamo ottenuto qui tenete sempre ben in tirare e facciamo il secondo petalo quindi entriamo dietro questa e lavoriamo sempre 1 e 2 lasciandolo sopra il secondo e 2 e il terzo è sempre uguale questo ora faccio vedere questo poi ecco qua e le chiudiamo tutte ecco fatto vedete i due chiudiamo bene stringendo uno due tre quattro e cinque e ci attacchiamo sempre a questo archetto in mezzo vedete e così abbiamo fatto un'altra volta questi due prima li abbiamo fatti in questo punto adesso in questo quindi in modo sfalzato in modo da fare da creare questi fiori vedete di quattro petali quindi finiamo il giro sempre allo stesso modo quindi ancora cinque catenelle poi per tutta la durata del del lavoro che avete continuiamo così con le cinque catenelle poi questi due petali attaccati insieme cinque catenelle così via quindi finiamo tutto il lavoro e poi vi faccio vedere come finire il giro ecco qua quindi fatto anche l'ultima quindi le cinque catenelle quando arriviamo in fondo che siamo qua facciamo le cinque catenelle e le tre maglie vedete qui chiuse insieme dopodiché qui adesso siamo alla fine quindi anche qui siamo al bordo per chiudere il giro facciamo una maglia alta doppia nella catenella di inizio del giro numero 3 quindi dopo averla chiusa io faccio anche una catenella per stringerla meglio poi questa potete anche evitarla ci attacchiamo quindi andiamo a cercare il giro precedente cioè qui da dove inizia questo ventaglietto e ci andiamo ad attaccare nel punto nel punto prima delle maglie alte quindi una due e tre ecco qua vedete una maglia alta qua nella catenella subito prima di queste tre maglie alte ecco quindi finito anche il giro numero 4 quindi questo è lo schema completo da ripetere adesso vi farò rivedere un'altra volta il giro numero 1 che è questo però ve lo faccio vedere in modo da farvi vedere dove entrare perché è uguale al giro numero uno il giro numero cinque però vedete non non faremo più le catenelle ovviamente ma rientreremo sempre negli stessi spazi quindi è semplicissimo ve lo faccio vedere giusto per farvelo vedere però lo schema è questo quindi ripetiamo sempre questo quindi ripartiamo dal giro numero uno vedete uguale qui anche se io ve l'ho rimesso qua per praticità dopo potete seguire questo quindi sempre con le nostre una due tre e quattro maglie alte doppie quattro catenelle scusate poi la maglia alta doppia rientriamo qui nel bordo quindi nell'ultima maglia qua del bordo potete entrare in realtà potete entrare alla 1 e 2 potete entrare qui dove abbiamo chiuso insieme le maglie vedete in questo modo verrà di più l'effetto proprio del fiore che riparte dalla stessa punta quindi 12 io questa catenella che ho fatta alla fine non l'ho messa nello schema perché non andrebbe fatta io di solito la faccio perché preferisco stringere un po di più il punto però non è necessaria perché anche se vi rimane un pochino più largo tanto poi vedete qui ci possiamo rientrare dentro quindi una due e tre quindi tre ma le quattro catenelle le tre maglie alte doppie le andiamo a fare qui vedete dove abbiamo chiuso questo petalo poi facciamo una catenella sempre alla fine e ci andiamo ad attaccare ancora una volta qua dove dove ci siamo attaccati con la catenella del giro precedente quindi sopra questa con la maglia con la maglia bassa del giro precedente quindi ecco quindi un'altra maglia bassa qua e quindi conteniamo così una catenella qui ri andiamo un'altra volta al centro vedete del di questo petalo quindi qua dove abbiamo fatto i due petali qua qui ci rifaremo i nostri 3 maglie alte doppie 3 catenelle 3 maglie alte maglie alte doppie e qua ci attaccheremo con una maglia bassa tra un ventaglino e l'altro con una maglia bassa qua quindi vedete dopo è sempre più semplice una volta capita la tecnica è molto più semplice questo è il rovescio del lavoro e questo è il dritto quindi continuiamo quindi sempre così finiamo con le quattro maglie alte doppie come abbiamo fatto al giro numero uno entrando anche qui nello spazio dove abbiamo chiuso insieme le tre maglie alte doppie del giro numero quattro quindi continuiamo sempre così per la lunghezza desiderata e questo vedete è il risultato che ho ottenuto io il mio tappetino vedete guardate come viene bello questo punto viene proprio un punto in rilievo vedete già da qui si vede bene che è un punto molto morbido infatti io ci ho fatto opposta questo tappetino e anche il dietro guardate com'è bello anche il dietro vedete anche il dietro se appunto ci fate una copertina per esempio con una lana baby e un uncinetto del 33 in mezzo al massimo ci fate una copertina verrà molto bella vedete anche sul rovescio perché è un punto che è bellissimo in su entrambi i lati perché un punto pulito che non non ha un vero e proprio rovescio nel senso che guardate com'è bello anche il rovescio e sul dritto appunto abbiamo questo effetto tridimensionale che è fatto appunto con una lana baby un uncinetto sottile vi verrà una copertina bella paffuta molto bella quindi ve lo consiglio anche per una copertina quindi spero vi sia piaciuto sulla mia pagina trovate questo schema e il link poi al video nel caso che lo vogliate salvare e niente ecco spero vi sia piaciuto e se realizzate mi raccomando se realizzate qualcosa mandatemi la foto che la pubblico con piacere sulla mia pagina e mi fa piacere anche vedere i risultati che ottenete voi e alla fine di questo video vi lascio il link appunto alla mia pagina dove trovate lo schema buon lavoro a tutti e aspetto le vostre foto